Cosenza si candida a diventare polo internazionale d'arte contemporanea, un sogno che sta prendendo forma grazie al progetto di residenza artistica The Box Art che per mesi ha animato le strade di Cosenza, richiamando nella città Bruzia artisti provenienti da tutto il mondo. Nei giorni scorsi il gran finale con la consegna delle opere alla città, creazioni esposte a Palazzo Arnone, fulcro dell'evento, a dare il via alla manifestazione la performance site specific di Gwendalina Salini che ha scelto come location una casa abbandonata. Apprezzata anche la performance outline o schema diretta da Angela Tiesi dove il corpo delle danzatrici con le loro movenze delicate seducenti si è trasformato in uno strumento ed espressione d'arte. Il clou delle manifestazioni sul lungo fiume per il gran finale della manifestazione dove ciascun artista ha messo in mostra le proprie opere che andranno a comporre la collezione del nascente museo d'arte contemporanea di Cosenza. Parla di progetto miracoloso il curatore della residenza Alberto D'Ambruso, critico d'arte e direttore artistico dei Martedì Critici. Davvero da sogno insomma che è quasi miracoloso che tutto quanto questo possa essere accaduto in Italia e poi in particolare diciamo soprattutto anche al sud a Cosenza quindi diventa un fatto più che meritorio per questa città aver accolto tutti questi artisti e poi gli artisti stessi che hanno sentito così tanto il calore stesso della città, degli abitanti e hanno realizzato delle opere davvero a volte sensazionali, bellissime insomma. In cantiere altri eventi che andranno avanti per tutto il 2016. A Natale adesso abbiamo l'altro gruppo di artisti in arrivo il 26 quindi con Santo Stefano e saranno qui presenti fino all'Epifania.